Ipù con pensiero alle 8.09, questo è il Crystal History, un salto nel passato, un salto nella grande musica che sicuramente avete cantato, anzi qui si urla, lo si sa, perché vabbè poi comunque scimmiottando un pochino Facchinetti lo facciamo tutti, lo so benissimo, ma comunque sono le 8.10 in questo istante di oggi, mercoledì 5 giugno che tra parentesi è la giornata mondiale dell'ambiente, quindi vedrete che poi ne parleremo in qualche maniera e ho davanti a me un articolo di Repubblica di qualche giorno fa, un paio di giorni fa sì dove c'è una foto che sembra di stare alle Maldive, sole azzurro, acqua cristallina tendente al verde e all'azzurro con il titolo che recita così, tutti in gita alla vasca anti esondazione del Seveso, virgolettato pensavo fosse un ecomostro, invece con il sole e il verde intorno sembra tutt'altro quindi siamo tutti felici perché finalmente abbiamo un oasi di grande natura all'interno della nostra città e quindi ci colleghiamo con Matilde Minela del Comitato Bresso, si vasca a questo punto, giusto? No, sempre no Ah ok, pensavo, invece niente Com'è stato leggere questo titolo di giornale? Ditemi un po' Guarda, il titolo di giornale sì, ci ha fatto ridere, però l'impatto durante l'inaugurazione a cui siamo stati presenti con la nostra mobilitazione è stato forte nel senso che l'hanno ordita molto bene, tra virgolette allora, per noi residenti attivisti del Comitato è stato una specie di effetto shock barra miracolo Fino al giorno prima, dopo il riempimento del 15 maggio, quindi considera fino al 31 maggio la vasca era una cava piena di fango i primi giorni, la prima settimana era una cosa insostenibile la seconda pure, la terza quasi le operazioni di pulizia sono state molto confusionarie, discontinue, intensive poi durante la notte è successo il miracolo e la mattina dell'uno ci siamo svegliati con le acque verdi o blu, come vuoi chiamarle e quindi ci siamo dati, ma che cambiamento che c'è stato dopo 15-20 giorni di disagi allucinanti, aria irrespirabile c'erano dentro 10 mezzi, chi scavava, chi sparava, ste lance d'acqua che vaporizzano il fango proprio sempre anche un po' la rinfusa, senza un progetto di pulizia come a dire, talmente tanto il fango stavolta che dobbiamo eliminarlo in qualsiasi modo possibile, immaginabile e poi la cosa che faceva impressione è che il materiale raschiato dalla vasca veniva buttato nel seveso, purtroppo è così che succede e il seveso ogni volta che c'era questo passaggio diciamo di materiale dal bacino al seveso diventava marrone cioccolato perché mattina presto voglio dire cioccolato chiaro, chiaro la nuance l'abbiamo capita era quella però invece l'uno tutto splendeva magicamente per l'inaugurazione per cui per noi è stato un effetto tipo c'è stato un gioco di prestigio durante la notte ma cosa succede? Come hanno fatto? Nel senso, devo dire che appena ho letto il titolo io ho pensato a voi effettivamente perché pensavo fosse un ecomostro invece con il sole e il verde intorno sembra tutt'altro ho detto mamma mia Matilda stamattina come sarà felice ho pensato in realtà un pochino ce l'aspettavamo, forse non così ma un po' ce l'aspettavamo perché siamo abituati al fatto che i residenti vengono esposti sempre al peggio noi siamo esposti 24 ore su 24, 365 giorni all'anno e quindi vediamo la verità dell'opera ossia un'opera che quando viene utilizzata è veramente neanche un ecomostro proprio una piaga igienico-sanitaria neanche a dire bella e brutta, conta poco cioè conta quello che incamerano dentro che è veramente una specie di valanga di 250.000 metri cubi di fango detriti, sporcizia ma anche proprio rifiuti, cioè non solo materiale fognario, inquinanti chimici ma anche proprio rifiuti, sporcizia assortita una discarica liquida sì esattamente così, proprio capisci, è tangibile che sei il ricettacolo degli scarichi fognari da Como fino a qua, fino alla tombinatura ovviamente tutto sotto casa tua ti fa un grandissimo piacere soprattutto quando studi le cose, diciamo i rischi igienico-sanitari da 10 anni e ti rendi conto che cosa significa poi cosa succede? Il secondo, terzo, quarto, quinto giorno il livello comincia a scendere nascia dietro di 7 tonnellate di fango forse questa volta tra l'altro è stato il riempimento più importante perché c'è stato un riempimento fino a quasi al limite poi l'hanno semisvuotata e l'hanno riempita ancora due giorni dopo per cui c'è stato un doppio riempimento quindi un doppio carico di fanghi di precipitazione poi a quel punto, delirio assoluto arrivavano i mezzi alla rinfusa di ogni genere quindi con inquinamento atmosferico perché mezzi pesanti sotto casa tutta la mattina acustico, ma chi se ne frega guarda, quello neanche più ci preoccupiamo con quello che abbiamo patito per 4 anni ma fino al giorno precedente all'inaugurazione era comunque impresentabile il bacino era una cava piena di strisciate di fango di polvere appiccicata poi quel giorno siamo entrati tutti per raggiungere il luogo dell'inaugurazione e allora un occhio esperto nostro diciamo ci definiamo esperti di vasca perché purtroppo la fronteggiamo tutti i giorni diciamo che non era proprio tutt'oro quello che luccicava ecco, Matilde, voglio capire c'è stato un po' l'effetto quando c'era Expo c'era l'effetto camouflage è stato usato quell'effetto lì bene, bene allora Matilde, rimani con noi una canzone e poi ci racconti che cosa l'occhio esperto del comitato invece si è accorto che insomma c'era e che non è solo appunto quell'acqua verde cristallina che abbiamo letto sui giornali andiamo con un po' di musica sinceramente sinceramente analisa le 8 e 19 minuti e sinceramente vogliamo capire un po' come è successo però in questa benedetta vasca lo stiamo facendo con Matilde Minella il comitato Bressonovasca più che altro perché lo dico subito a chi ci sta ascoltando eh ma voi dovete sentire tutte le campane l'altra campana ha avuto articoli sui giornali di qualsiasi giornale esistente al mondo praticamente quindi sappiamo cosa dice il comune cosa dice M&M cosa dicono i cittadini che passavano di lì felici e contenti in bicicletta io invece voglio andare a sentire cosa dice il comitato che sono anni che insomma lotta e anche questa volta dice di aver visto lo diciamo prima insomma sì tutto bello ma insomma un po' l'effetto camouflage forse c'è stato giusto Matilde di questo mi stavi dicendo sì anche perché come dicevamo appunto era la punta dell'iceberg dopo 20 giorni di disagi allucinanti in cui fino alla sera prima c'erano le strisciate di fango nella vasca è tutto documentato è quello che diciamo lo dico con tranquillità perché tra l'altro l'abbiamo anche mostrato in sede di mobilitazione davanti ai politici abbiamo fatto proprio una composizione fotografica con tutti i fanghi la sporcizia e abbiamo detto ok consideriamo la situazione a 360 gradi oggi sarà così ma cos'è stato ieri l'altro ieri due settimane fa venti giorni fa cosa sarà per la maggior parte dell'anno niente ti raccontavo che infatti poi entrando nella vasca blu azzurra bellissima meravigliosa noi che appunto conosciamo bene ormai ci siamo accorti di qualche piccolo particolare che è ovvio che ai fini di chi la vede non conta ma chissà un po' sì ci siamo accorti che le scogliere che teoricamente sono bianche ghiaccio perché sono i famosi massi ciclopici no che sono proprio bianchi come insomma quella roccia bianca erano tutti quasi marroncini rosati spalmati di una proprio di una di uno strato di polvere appiccicata di fango adesso bello o brutto che sia non è non stiamo parlando di questo il problema è che questa è la dimostrazione la prova del fatto che quella vasca lì anche se ci metti mezzi dieci mezzi al giorno per venti giorni non la pulirai mai del tutto perché è veramente insostenibile l'impatto della quantità di fanghi che si deposita e quindi quell'acqua azzurra verde che si avvera che si è aiutata diciamo poco importa fatto sta che non sarà mai solo acqua di falda sarà sempre acqua di falda mischiata a un mix una sospensione una soluzione dei residui di quello che il seveso ci lascia dentro per cui vedere certe scene ti dico anche solo della gente che ci fa tanto sport intorno qualcuno poi avventatamente addirittura è entrato nell'acqua cosa? è successo è successo ho letto post che diceva peccato non si possa fare il bagno dentro così ho letto infatti ho detto se io fossi voi direi meno male che non si può fare il bagno dentro esatto la gente non ecco questo non recepisce questo a noi fa abbastanza effetto perché comunque è un bacino che anche quando è a laghetto e non solo a regime non è salubre e noi questo proprio nei prossimi giorni poi andremo un po' a bussare anche a Parco Nord da Regione Lombardia siamo stati appunto a bussare alle porte del Comune di Milano all'inaugurazione per ripetere che quest'acqua non va bene perché l'acqua del Seveso è al di sotto di tutti gli standard di qualità ambientale fa ridere questa cosa fa ridere ma fa riflettere molto Matilde perché poi siamo nella stessa città in cui invece diciamo no ma io nel Naviglio non ci metterei mai un piede quando invece sembra benissimo che l'acqua dei Navigli è un'acqua praticamente quasi potabile mi verrebbe a dire perché è super controllata il Consorzio Villoresi ovviamente è un bene che vende l'agricoltore quindi deve fare in modo che sia pulito e tutto poi vediamo invece un laghetto appena aperto lì ma è bello azzurro e verde diciamo a peccato che non si può fare il bagno quando sappiamo invece che l'acqua del Seveso insomma si portano giù da Como fino a qui qualsiasi cosa incontrano lungo il cammino hai proprio centrato il punto infatti poi l'assessore Granelli quando risponde alle nostre contestazioni dice sì ma 320 giorni all'anno sarà un laghetto di acqua di falda e noi diciamo no perché l'acqua di falda non saranno mai sole saranno sempre mischiate ai residui che quella mole di acque torbide che con sé come dicevi tu trascinano tutto lascerà sempre perché ecco un punto essenziale la pulizia è sì una pulizia industriale quasi la pulizia delle strade con imprese che saranno competenti nel pulire le strade infangate le industrie ma non è specialistica non cura l'aspetto igienico-sanitario non considera che la popolazione non deve mai entrare in contatto con le acque reflue ragion per cui noi adesso porteremo avanti la battaglia di chiedere finalmente un tavolo tecnico di studio sia della materia pulizia ma con persone esperte competenti ATS ARPA gente che queste cose le conosce perché la studiate perché ha i titoli diciamo relativi e poi soprattutto un tavolo che studi finalmente il rischio salute perché abbiamo fatto una nuova scoperta che è abbastanza agghiacciante pensando appunto al fatto che ormai la struttura è fruibile e fruita parecchio in questi giorni che la regione Lombardia aveva emanato nel 2014 delle linee guida regionali molto esplicite che dicevano che nelle procedure di valutazione di impatto ambientale come quella a cui la vasca è stata sottoposta è obbligatorio o comunque fortemente indicato diciamo si tratta di linee guida aprire uno studio sulla salute della popolazione quindi tu saresti obbligato istituzione ad andare a aprire gli archivi a studiarti statisticamente quella fascia quella popolazione particolare che salute ha che mortalità che morbidità ha tolto questo devi poi andare a vedere cosa è successo a questa popolazione durante il cantiere e che cosa è successo dopo negli anni in cui l'impianto entra in funzione questo non è stato fatto minimamente perché? perché hanno ritenuto che non era da fare però le stesse linee guida di regione Lombardia dicevano che andava fatto quindi noi siamo stufi che le istituzioni o anche l'ente Parco Nord regione comune tutti si girano dall'altra parte con la bella favoletta no ma dopo è pulita poi la puliamo miglioriamo ci ragioniamo perché qui non si tratta di empirismo qui si tratta di salute un diritto costituzionale deve essere affrontata da tecnici esperti con studi sistematici noi siamo stati diciamo respinti al mittente da un tribunale delle acque che si è dimostrato totalmente sordo e cieco alle nostre documentatissime stanze pazienza ci rimbocchiamo le maniche che pretenderemo questo genere di studio perché con la salute non si scherza non si rischia tanto più che ormai non parliamo più solo della salute di noi 2000 residenti i bambini delle scuole delle aree gioco che ormai guarda siamo anche abituati a avere la trachevita e la tosse gli occhi gonfi che non va bene non va bene ma ci stiamo abituando perché è sempre così poi ci si abitua a tutto ma le persone che adesso ogni giorno felici o meno vengono a fare le foto in bici con i bambini piccoli corrono fanno proprio anche sport non sanno che vanno incontro a dei rischi perché quello che esala da quel bacino non deve essere respirato anche se purtroppo noi lo respiriamo tutti i giorni chiarissimo è un po' anche di preoccupazione non solo per voi residenti ma anche per chi appunto quell'area adesso la sta vivendo venendo magari apposta anche da altre parti della città quindi insomma il paradosso è anche questo Matilde grazie mille ci hai spiegato tutto bene quindi diciamo i prossimi passi saranno richiesti di questi tavoli tecnici specifici sulla pulizia sulla gestione dei fanghi e anche nello studio appunto diciamo sulla salute fondamentale appunto di chi abita lì e di chi fruisce appunto della vasca grazie mille allora Matilde buona giornata grazie a voi come sempre tutto il comitato e buon lavoro allora che insomma il lavoro vedo che è ancora tanto ciao grazie grazie ancora Matilde Minella comitato Bresso Novasca 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 Grazie a tutti.